guarda il semafolo via 30 destra 3 più sale, gomme fredde in destra 2, lascia correre, scende attenzione sinistra 3, lunga, fai correre sta interno se c'è sporco sinistra 3, ritardala tienila per destra 2, doppia sale 30 tornante sinistro non esagerare 200 sinistra 2, per destra 2, vai ok scicca in sinistra tornante sinistro in destra 2, cordolo lascia correre 100 tornante sinistro stai largo per destra vai, cordolo pieno 100 stai a sinistra tornante destra 30 sinistra 3, lunga primo giro fatto 30 destra 3 più sale in destra 3, in destra 2, lascia correre sinistra 3, lunga, fai correre occhio sporco per sinistra 3, ritardala tienila in uscita per destra 2, doppia sale 30 tornante sinistro 200 sinistra 2, per destra 2 50 50 sicca in sinistra per tornante sinistro in destra 2, cordolo lascia correre 100 stai a destra tornante sinistra sacrifica per destra vai, cordolo 100 dai, passalo qua passalo qua tornante destro ok 30 sinistra 3, sale secondo giro fatto 30 destra 3 più sale in destra 2, lascia correre scende 30 30 ti fa passare che sta interno che incorrere qua in interno adesso adesso ok non esagerare destra 2, doppia sale 30 tornante sinistra 200 sinistra 2 per destra 2 per destra 2 vai per destra 2 vai sul cordolo pieno per destra vai sul cordolo pieno 100 tornante destro 30 30 sinistra 3, sale terzo giro fatto 30 destra 3 più sale in destra 2 in destra 2 in destra 2 lascia correre 30 sinistra 3 lunga fai correre per sinistra 3 ritardala tienila interna in uscita per destra 2 doppia sale 30 tornante sinistro 200 sinistra 2 per destra 2 vai 50 chicane tornante sinistro in destra 2 cordolo lascia correre 100 tornante sinistro per destra vai pieno cordolo 100 tornante destro 30 sinistra 3 lunga sale quarto giro fatto 30 destra 3 più sale in destra 2 lascia correre 30 sinistra 3 lunga fai correre per sinistra 3 ritardala in attenzione destra 2 doppia sale 30 tornante sinistro 200 sinistra 2 per destra 2 per destra 2 chicane sinistra tornante sinistro in destra 2 cordolo lascia correre 100 100 100 tornante sinistro per destra vai cordolo 100 tornante destro 30 sinistra 3 lunga sale quinto giro fatto quinto giro fatto destra 3 più sale in destra 2 lascia correre 30 sinistra 3 lunga fai correre per sinistra 3 ritardala tieni la interna in uscita tieni la interna in uscita in destra 2 doppia sale 30 30 tornante sinistro 200 sinistra 2 per destra 2 50 50 chicane sinistra attenzione tornante sinistra in destra 2 cordolo lascia correre 100 sinistra tornante sinistra sacrifica in destra vai cordolo 100 tornante destro 30 sinistra 3 lunga sale sesto giro fatto destra 3 più sale in destra 2 lascia correre 30 sinistra 3 lascia correre in sinistra 3 ritardala per tornante destra 2 infilati infilati dio cane canca tornante sinistro 100 sinistra 2 per destra 2 vai chicane usciamo poi ok occhio occhio non esagerare occhio vai 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 stop dot com b vai 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 Grazie.